Elisabetta Gigliotto l'abbiamo incontrata nel corso dell'anno 2021, ci sono le registrazioni nel mio canale Telegram Tiferet di Laura Ferro, è possibile registrare, sono un po' lenta come sto dicendo ormai da un pezzettino a inserire le varie trasmissioni però c'è la possibilità piano piano di riascoltare appunto gli ospiti come sapete che partecipano qui a Tiferet così anche la nostra Elisabetta Gigliotto che è una counselor, lavora sull'aspetto delle costellazioni familiari e poi fa anche dei lavori molto interessanti con il Theta Healing giusto Elisabetta? esatto dico giusto però ha anche questa capacità che è quella di riuscire a questa passione diciamo a delle pietre prete preziose quindi l'aspetto dei cristalli e infatti l'abbiamo vista l'abbiamo ascoltato prima nel 2021 e ci ha portato una pietra preziosa che è la Shungite, dico giusto? si si chiama proprio Shungite bene e ricordo che aveva diciamo portato qui e c'era molto interesse da parte dei radioascoltatori avevano fatto una serie di domande per cui si era stata la richiesta di continuare a parlare di questa pietra e per le sue caratteristiche anche perché è molto diciamo può aiutare per il momento che stiamo che stiamo vivendo proprio nella nostra diciamo situazione anche attuale corrente giusto Elisabetta? assolutamente sì perché è una pietra è una pietra russa che protegge proprio dalle onde elettromagnetiche e non solo ci aiuta anche in questo momento proprio nel corpo ecco è una pietra antichissima come avevo raccontato nella puntata precedente ed è una pietra naturale che si è formata oltre due miliardi di anni fa si trova solo in Russia nei terreni attorno al lago Onega cioè proprio nel villaggio nei pressi del Mar Bianco nel villaggio di Shunga per questo il suo nome e ha la particolarità di proteggere dalle radiazioni elettromagnetiche la Shungite inoltre è l'unico minerale organico che contiene tutti gli elementi naturali e gli elementi chimici presenti sulla terra è un minerale che si è formato tantissimo tempo fa e perciò pensiamo due miliardi di anni fa e quindi arriva da molto prima degli esseri viventi esattamente da un periodo dove non c'è una testimonianza storica due sono le ipotesi sulla sua origine il primo è che è un fossile creatosi dall'unione di diversi organismi planktonici quelli del plankton altri però pensano che possa essere un minerale proveniente da un meteorite che sopravvisse all'urto nell'atmosfera e raggiunse la superficie terrestre quindi che proviene dello spazio esatto beh è abbastanza lascia sognare questa cosa l'unica cosa che si sa è che veramente è una pietra unica nel suo genere e contiene come abbiamo detto tutti gli elementi chimici presenti sulla terra ed è anche l'unico minerale al mondo in grado di condurre la corrente elettrica e respingere i raggi magnetici da cosa è costituito questo elemento unico? qui andiamo un po' sulla chimica proprio un breve accenno come avevo detto l'altra volta la sungita è costituita da fullerene C60 che è l'unica forma finita di carbonio per intenderci il diamante e la grafite hanno un reticolo infinito invece la sungita è l'unica tra questi minerali che ha il fullerene questa forma finita di carbonio cosa possiamo dire? che la sungita viene utilizzata principalmente per piccoli gioielli o per ricavarne forme particolari piramidi, sfere, cubi inoltre è usata nella cristalloterapia soprattutto nella sua forma più elevata che è la sungita di tipo primo che è l'elite e invece in altre forme quelle lavorate si parla di sungita di tipo 2 e 3 come si possono individuare questi quattro tipi di sungite? allora la sungita di tipo primo o elite contiene il 98% di carbonio o carbonio fullerene ed è estremamente rara è caratterizzato da un aspetto semi metallico di colore nero argento ed è molto leggera è la più pregiata tanto che è l'unica che può essere dopo vi dico anche che non è il caso di farlo però sarebbe l'unica che può essere utilizzata per purificare l'acqua ed è definita qualità argento cristallina o meteoritica quindi si suppone che questa abbia proprio una derivazione di tipo meteorita purtroppo è una pietra che è stratificata pertanto non è lavorabile poi abbiamo la sungite 2 che contiene un 60-90% di carbonio più altre sostanze come magnesio, zolfo, alluminio eccetera è la più utilizzata per purificare gli ambienti e per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico è una pietra questa è una pietra lavorabile perciò viene utilizzata per realizzare ciondoli, piastre per cellulari proprio per le onde solidi geometrici come vi dicevo cubi, piramidi e sfere e poi c'è la sungite di tipo 3 e 4 che contiene un 30-50% di carbonio silicati sono le più economiche ma sono anche quelle che hanno una capacità diciamo di assorbire queste onde un po' minore rispetto alle altre precedenti la sungite che generalmente troviamo in commercio è quella di tipo 2 che è colore nero-antracite con delle sottile venature bianche ha una superficie levicata e può essere lavorata come avevo accennato prima vediamo le proprietà di questa pietra incredibile proprio per la sua struttura molecolare la sungite ha proprietà sia fisiche che chimiche che bioenergetiche sorprendenti il minerale è estremamente efficace per ostacolare ed eliminare tutti i danni causati da onde elettromagnetiche ad esempio io a casa tengo una piramide di sungite vicino agli apparecchi tipo ai computer ai televisori perché scherma tantissimo infatti utilizzarli vicino al computer, cellulari, anche al microonde perché neutralizza le onde corte e ultracorte attirandole verso di sé come fosse un buco nero e per poi rilasciarle dopo averle trasformate in onde biocompatibili in tutto senza alterare il funzionamento di questi elettrodomestici poi la sungite a differenza di altri cristalli ad esempio la tormalina nera non si carica mai negativamente cioè vediamo altri cristalli neri che possono essere sungite, matite devi scaricarli perché significa che lei è capace di ricaricarsi e non ha bisogno di nessuna purificazione è sempre funzionante, per sempre è una cosa che ha dell'incredibile davvero ha inoltre la capacità di sostenere e implementare l'energia vitale di ognuno di noi ed è un eccezionale supporto per chi è stressato o stanco ma scusami allora Elisabetta c'è anche la possibilità di fare dei ciondoli? per esempio degli orecchini? e sono efficaci? esatto, adesso ti dico anche cosa vanno a stimolare la sungite è una pietra intelligente senza ombra di dubbio e se usata per scopi terapeuti ci tratta le zone interessate dal dolore fino a farla scomparire compreso anche in breve tempo localizza l'ampiezza del male ne determina la causa e indirizza in noi un fenomeno di autoregolazione che corregge il problema visto addirittura su persone con omecrania e mal di testa nel giro di pochi minuti è riuscita a fare sparire quindi è sempre però diciamo quelle emicranie derivanti dalle problematiche elettromagnetiche oppure per persone che sono anche più metereopatiche quindi sentono di più il tempo o quant'altro comunque siamo tutti bombardati diciamocelo dalle varie onde quindi è probabile che molti mal di testa soprattutto in questo periodo abbiano un effetto come si sa che derivi da cose elettromagnetiche sicuramente in più è in grado di stimolare le difese immunitarie ed è bene e questo lo consiglio in questo periodo averla addosso durante i periodi di epidemia influenzale cambi di stagione o convalescenze non faccio nomi però vedete un attimo come volete utilizzarlo esatto quindi con la vibrazione sempre sana della shunjite la distorsione viene sempre rimessa in ordine questo è uno dei motivi per cui è un materiale unico al mondo cosa possiamo dire delle forme di shunjite e dove possono essere adoperate allora esistono vari tipi di shunjite come avevamo detto quella meteoritica che contiene il 98% di carbonio e fino ad arrivare a quelle minerali fossili quindi di derivazione plantonica che hanno una quantità inferiore di fellureni allora le forme vediamo ad esempio il cubo una delle forme è quella del cubo è adatto alla protezione di superfici basse che vanno dal pavimento al letto alla tavola ai lettini per la terapia e quindi fino ad quindi parliamo per esempio terapie massaggi esatto massaggi e la potete posizionare fino ad un'altezza di 70-90 cm circa poi abbiamo la sfera che ha una bolla di energia sferica e agisce soprattutto proteggendo tutte le attività perturbanti per cui è bene avere una sfera di shunjite sul tavolo di lavoro o vicino al divano dove c'è la tv e probabilmente sono proprio i luoghi migliori dove lei agisce poi c'è la piramide che per il suo espandersi energeticamente dal basso verso l'alto è ideale metterla anche su un armadio una mensola perché può avere un'attività anche su due metri su due metri quindi è come se ci fosse una protezione che dall'alto scende verso il basso come se piovesse energia ok infatti non è un caso che piramidi di shunjite vengano usate a loro nei corridoi sotterranei soprattutto viene utilizzata e viene messa in corridoi sotterranei poi c'è questa famosa teoria che la shunjite può essere usata per purificare l'acqua eliminando il gusto del cloro inabilitando i metalli ah interessante aspetta un attimo perché c'è il pro e il contro eliminando i residui di pesticidi quindi con proprietà antibatteriche quando si parla di shunjite per purificare l'acqua nota che l'acqua con la shunjite purificata trova impiego anche in agricoltura per innaffiare piante mentre la pietra se viene macinata e miscelata con la terra diventa un concime naturale il problema del bere l'acqua con la shunjite come vi avevo detto ci sono vari tipi di shunjite dovrebbe essere quella elite quella pura con con il carbone a 98% mi sento però di dover levare un po' da questo un po' da questo mito perché è noto che tutti invece i tipi di fungite fossili e non cristallini quindi quella di secondo livello di shunjite contengono ossido di alluminio e che parte da un 4% fino ad arrivare anche a percentuali più alte e via via che il contenuto del carbonio decresce aumentano tipo alluminio ed altro quindi pensate che nella shunjite meno pregiata la percentuale di carbonio è massimo del 5% sono quindi dell'idea di non fare errori quindi non non trattate l'acqua con questa pietra perché potrebbe contenere alluminio quindi l'alluminio non va anche perché sembra che esista una correlazione e questo si è visto probabilmente anche dal punto di vista medico e quant'altro che trasfunzione cronica di alluminio si sono sviluppate soprattutto malattie di tipo neurodegenerativo quindi alzheimer parkinson sclerosi multipla sla demenza eccetera e so che molti hanno praticamente letto il libro di vadi vadi menzelanda dove parla di bere l'acqua con la sungite però io penso che si riferisse esattamente a quella elite perciò io ci andrei cauti certo anche perché insomma poi c'era una cosa che l'altra volta era stata richiesta stata richiesta ed era il costo esatto quindi sono andata a vedere al grammo per vedere come allora partiamo dalla sungite di tipo 1 che abbiamo detto ecco quella pura di carbonio il carbonio fullerene allora 6 grammi facciamo un esempio io ho fatto una scala però 6 grammi di questa sungite quindi 6 grammi sono niente veramente parte dai 12 euro in su per arrivare ad esempio facciamo una media 21 25 grammi che sono veramente ancora molto pochi 28 attorno ai 29 euro possiamo arrivare a un etto di sungite che parte di tipo 1 sempre elite di tipo 1 che parte da 120 euro questo è la cifra per la sungite elite quindi se la trovate sotto queste cifre i grammi fatevi qualche domanda ovviamente poi invece le piramidi come vi ho detto piramidi sfere pendenti anche quello vengono tutti lavorati con la sungite 2 che si può lavorare sì ok allora una piramide con un diametro di con un lato di 9 cm parte dai 40 euro in su per una piramide per una piramide con un lato di 15 cm si parla di oltre 200 euro mamma mia ha un costo ha un costo la sungite è è eterna però ha un costo le sfere le sfere di diametro di 4 cm vanno dai 18 euro in su è già piccolina dagli 8 cm dai 50 euro in su per quanto riguarda i pendenti i più piccoli quelli di 3-5 grammi che si chiamano small vengono attorno ai 9-10 euro i medi 5-6 grammi dai 25 in su poi abbiamo quelli grandi si parla di 7-11 grammi che vengono attorno ai 35 euro in su e poi oltre i 10 grammi lì si parte dai 45 e si va in su questi sono i prezzi in linea di massima della sungite ma come lavora la sungite quando noi la portiamo addosso la sungite ha due capacità fondamentali riesce ad armonizzare e regolare il campo energetico dell'organismo e soprattutto normalizzare i processi nervosi aiutando nei momenti più bassi a livello stress psicofisico quindi basta portare con sé un pezzo di sungite o anche semplicemente tenerlo in una tasca non c'è nient'altro da fare la pietra si attiva automaticamente da sola quando se ne presenta la necessità è intelligente ripeto bastano addirittura solo 15-20 giorni per innescare modifiche nell'organismo normalizzando l'equilibrio energetico l'unico effetto collaterale direi della sungite è quello dell'insonnia perché lì per energie che si accumulano ovviamente potrebbero interferire col normale ritmo sonno veglia rendendo difficile l'addormentamento quindi la cosa più ovvia è non indossare la sungite durante la notte prima di andare a letto poi è molto legata è incredibilmente legata al chakra del cuore quindi quando avete un ciondolo cercate di farlo posizionare quindi un po' lungo la catenella del chakra del cuore che è il luogo di connessione con la nostra intelligenza interiore e alla sungite arrivano le informazioni quantiche che il ciondolo ce le rimanda e in qualche maniera c'è proprio un interscambio tra noi anche in questo caso consiglierei visto che lavoriamo col chakra del cuore di prediligere oggetti ottenuti da pietre purissime proprio per godere appieno di parli di sungite tipo uno ovviamente se sono lavorati che io ho visto sono tipo dei come se fossero dei magnetini quelli sono lavorati potrebbero essere grezzi allora se avete quelle a grezza la mettete dentro in un sacchettino la mettete dentro nel solito contenitore della pietra quella è quella purissima che allora anche l'elite che è quella non lavorabile perciò la trovate grezza è importante infatti scegliere bene anche la forma perché non tutti i tagli hanno gli stessi effetti ad esempio per chi vuole indossare la sungite per limitare l'assorbamento delle radiazioni elettromagnetiche sarebbe preferibile una pietra a forma di piramide chi invece utilizza la sungite per la meditazione o radicamento è meglio che scelga come dicevamo una forma sferica o comunque arrotolata o arrotondata ecco questo credo che sia un po' tutto quello che avevo di questa sungite voglia di raccontarvi su questa pietra che ha un'attualità in questo momento incredibile è proprio un supporto grazie per averci incuriosito nuovamente perché insomma i radioascoltatori hanno stati come dire favorevoli la volta scorsa a rivedere un attimino quella che era questa pietra grazie allora davvero perché insomma sono delle proprietà che io non sapevo e che ho imparato grazie a te Elisabetta Ziliotto che è qui questa sera noi ci sentiamo magari fra un mesetto con un'altra con un'altra curiosità un'altra pietra e vedremo cosa ci racconterà grazie